Per imparare correttamente la terapia infiltrativa non bastano certo i libri, è importante esercitarsi sul manichino ma quando è possibile anche sul cadavere. Si tratta di corsi molto particolari che non è facile effettuare e che è impossibile effettuare nel nostro paese. Ne parliamo con il dottor Gerolamo Bianchi, organizzatore di uno di questi corsi che si svolge in Francia in occasione del quarto simposio nazionale anti-agia che si svolge qui a Roma dal 3 al 5 ottobre. Dottor Bianchi, innanzitutto ci dice due parole di presentazione sul suo corso, su Artrolab. Artrolab è un corso di tecnica infiltrativa su cadavere che si svolge in due sedi, una è Parigi e un'altra è Barcellona, in entrambe le sedi in collaborazione con l'Istituto di Anatomia dell'Università Locale. Il corso è finalizzato a che cosa? Il corso è finalizzato a migliorare, a dare e migliorare le competenze dei reumatologi, ma non solo, anche dei fisiatri o degli ortopedici nella tecnica infiltrativa. Ecco, la prima curiosità, penso che ce l'abbiamo in molti, è perché la scelta del cadavere? Che vantaggi dà rispetto al manichino? Il cadavere è abbastanza scontato, dà il vantaggio di essere identico al paziente, però consente ovviamente di sperimentare l'accesso alle varie articolazioni in maniera indolore. È una cosa che in Italia non è possibile fare, perché per motivi legali non è possibile utilizzare i cadaveri a questo scopo in Italia e quindi ci sono state generazioni di medici che hanno imparato a fare le infiltrazioni direttamente sul paziente. Ecco, il cadavere che provenienza ha? I cadaveri provengono da cittadini che donano il cadavere all'istituzione, all'università, proprio perché possa essere utilizzato nell'insegnamento agli studenti oppure ai medici. Ecco, come si svolge esattamente il corso? Ce lo descrive, ce lo fa rivivere, diciamo? Il corso è basato sia su una parte teorica che su una parte pratica, appunto, su cadavere. Nella parte teorica vengono trattate le indicazioni, le controindicazioni della tecnica infiltrativa articolare, quindi anche i differenti tipi di farmaci che possono essere utilizzati, i differenti tipi di agli, i differenti articolazioni. Viene trattato le vie di accesso alle articolazioni in maniera dettagliata, sia per quanto riguarda l'arto superiore che l'arto inferiore. E la parte pratica invece si svolge all'istituto di anatomia, dove ci sono dei pezzi anatomici e i partecipanti al corso, con l'assistenza di un tutor, che è una persona esperta in tecnica infiltrativa, possono prima vedere come si pratica un'infiltrazione, le varie vie di accesso e poi provare direttamente loro. Quanto dura il corso? Il corso dura due giorni, quindi inizia un giorno e finisce il giorno dopo. È un corso in cui si lavora parecchio, nel senso che sia le lezioni teoriche che la parte pratica sono dal punto di vista delle ore impegnative, ma che è di soddisfazione per i partecipanti. Ecco, chi si rivolge? Meglio per i principianti? Va bene anche per persone esperte? Qual è l'utente che può giovarsene di più? Contrariamente a quello che si poteva pensare, non è solo l'inesperto che ha vantaggio, certo, chi ha fatto poche infiltrazioni o nessuna, come purtroppo spesso succede, ha grande vantaggio, ma è indirizzato anche a colleghi che magari fanno infiltrazioni solo in una sede, perché è anche più semplice e accessibile, per esempio c'è chi fa infiltrazioni solo all'articolazione del ginocchio e della spalla. E quindi questi colleghi hanno la possibilità di imparare anche articolazioni più difficili come tecniche, come quelle della mano e del piede, dove l'accesso, essendo piccole articolazioni, è un pochino più problematico. Quello che è l'esperienza che ci ha dato però a questo corso, che è anche estremamente utile per chi ha esperienza di tecnica filtrativa, perché gli consente di ripetere, migliorare la manualità, provare anche via di accesso diverso. Penso che succede che chi è abituato a infiltrare un'articolazione fa sempre lo stesso accesso, perché giustamente non prova, non fa tentativi sul paziente. C'è soddisfazione da parte di chi partecipa, sono contente le persone? Molta, sono molto contente e questi corsi vengono fatti ormai da 7-8 anni, anche in più edizioni per ciascun anno e noi abbiamo avuto anche partecipanti che sono tornati anche 2-3 volte. Poi in alcuna edizione abbiamo anche, diciamo così, migliorato ulteriormente l'offerta formativa, nel senso che insegniamo anche a fare tecnica infiltrativa utilizzando l'ecografia. Cioè ci sono una serie di articolazioni in cui l'uso dell'ecografia dà in effetti qualcosa in più, semplifica la manovra.